Con questo video voglio far vedere come posso andare a dare il singolo voto, non so, un'interrogazione a un singolo allunno su Mastercom, ok? Dunque, sono qua sul Luigi Cerebottani, sul sito istituzionale della scuola, vado sul registro elettronico e entro nel docente, ok? Dunque c'è il mio nome utente, password, accedo, è già memorizzata la password, dunque posso entrare tranquillamente Vado su, col tasto sinistro, clicco su consultazione, clicco, ok? Prendo una delle mie classi, clicco su una delle mie classi Poi vado qui al terzo, su voti, clicco qua su voti Ok, sono sul secondo quadrimestre, ho la serie di voti Vado a cercarmi il nome del mio alunno, ok? E vado a mettere, naturalmente ho oscurato per non, anche i voti Ho oscurato anche i voti, comunque andrò a mettere in più, ok? Dunque aggiungerò un voto qua, annotazione Ma seconda, se voglio il voto, l'annotazione Dunque l'annotazione non fa la media, ok? Ok, perché si può anche, sì, comunque non c'è il voto, ok? E dunque qui andrò a mettere la data che ho fatto, come si dice l'interrogazione Metterò il tipo se orale, ok? Comunque ipotizziamo una data qui e mettiamo, non so, 28.05.2020 Voto, andrò a scegliere il voto, ok? Non so, metterò A questo punto andrò poi a mettere la nota Argomento Ok Allora Vado a cancellare, metterò minuscolo Ok Se faccio salva e prosegui andrà sul successivo Ma a questo punto a me non serve Perché salva e prosegui ha una comodità Perché sia la data sia la nota se la porta Invece con salva, salva solo per quell'alunno lì E a me serve solo per quell'alunno lì A questo punto faccio salva E avrò in pratica l'alunno Con Con il voto inserito La data E poi ci sarà anche Dunque vedrò la sua media Poi Qua a destra E dunque Niente Era semplicemente un video Soprattutto per me Per ricordarmi Come fare a dare il voti Ok Vabbè Questo è abbastanza facile Perché dopo uno Con Come si dice Continuando a darli Non si Non si dimentica più Ci sono altre situazioni Dove invece Magari fai Delle cose una volta all'anno E dunque poi ti dimentichi Ecco perché Io sono abituato a creare I video In modo che Magari dopo un anno Vado a rivedermeli E vabbè Comunque volevo creare anche questo Anche se non era così necessario Vabbè Magari a qualcuno servirà Ok Ci vediamo Alla prossima Arrivederci